Vi è mai capitato di scattare una foto con il vostro iPhone e notare solamente dopo che un pallino verde o colorato è proprio lì nella vostra fotografia e non capite da dove è uscito? Questo fenomeno è più comune di quanto voi pensiate, ma è anche facilmente risolvibile. In questo video vi voglio spiegare proprio come rimuovere questo pallino, se consigliamo chiamarlo per il momento, ma vi spiegherò tutto più avanti, o come evitare che questo fenomeno si presenti nella vostra fotografia. Allora partiamo con il chiamare questo fenomeno con il suo nome tecnico e giusto, si chiama Lens Flare, è un po' come questo che vi sto mostrando. E questo fenomeno è dovuto al fatto che i raggi della luce finiscono nella vostra lente, quindi è un fenomeno del tutto naturale, non dovete preoccuparvi, non è un bug dell'iPhone perché, devo dirlo, non solo l'iPhone soffre di questa cosa, ma qualsiasi lente, qualsiasi fotocamera, quindi il vostro telefono non ha nessun problema, è del tutto normale. Cariato a ciò c'è da dire che spesso questo Lens Flare si può verificare come o pallini, forme poligonali, come vi ho mostrato e vi sto mostrando nella vostra fotografia, oppure anche come fasci di luce. Sono figli dello stesso fenomeno, ciò che cambia è solo la forma, quindi noi ci troviamo di fronte a un problema di Lens Flare quando troviamo questo pallino nella nostra fotografia. Ora per evitarlo c'è una possibilità, ma è un compromesso che non sempre potete seguire, perché banalmente se il fenomeno si verifica quando la luce diretta finisce nella vostra lente, capite bene che se state fotografando qualcosa dove c'è questa luce che arriva direttamente nella vostra lente, l'unica cosa che potete fare è spostare l'iPhone, spostarvi dalla scena e cambiare ad esempio inclinazione, oppure meglio ancora far uscire la luce diretta da dentro l'immagine. Quindi se volete effettuare una foto, come nel mio caso, a una strada, non prendete in pieno il lampione, in questo modo scomparirà l'effetto Lens Flare. Se invece non potete fare a meno di evitare la luce diretta, perché ad esempio vi trovate di fronte a un bellissimo tramonto, e voi volete giustamente, voi dovete fare il tramonto, sempre come vi sto mostrando, allora il mio consiglio è scattate la foto con questo fenomeno, però state ben attenti a scattarla facendo in modo tale che il pallino che compare nella vostra fotografia finisca in un'area, diciamo così, isolata con colori uniformi, per un semplice motivo. Questo fenomeno può essere corretto velocemente in post-produzione con una qualsiasi app per modificare foto su iPhone. L'editor di base di iPhone al momento non permette di rimuovere oggetti su iPhone, ma se lo collegate all'applicazione foto sul vostro Mac, avete anche questa possibilità. Però visto che voi state scattando foto con iPhone, volete modificare tutto il vostro iPhone, vi mostro come fare appunto per rimuovere il pallino con una semplice app, gratuita e molto utile. La conoscete sicuramente tutti, si chiama Snapseed. Snapseed che è di Google, una volta aperta l'applicazione e la foto incriminata, vi basterà andare in posizione correzione e iniziare la vostra correzione appunto. Io vi consiglio di zoomare il più possibile sul pallino, in questo modo passando dopo il dito per correggere l'immagine, non avrete quell'effetto di sfocatura o comunque di correzione che sembra sfalsare appunto la qualità dell'immagine, soprattutto non si noterà che c'è stata una notifica. Perché se la stessa foto provate ad esempio a non zoomarla, ma a passare il dito per correggere il fenomeno del lens flare, quindi il pallino, vi accorgerete che si potrebbe notare che c'è stata una modifica, perché come sto mostrando, guardate, una parte è molto più scura. Naturalmente questo fenomeno si verifica con qualsiasi fascio di luce, quindi non solo con il sole ma anche con un lampione, una lampadina, una candela. Può capitare dunque che sono varie le situazioni in cui vi troverete di fronte al fenomeno del lens flare, ma come vi ho detto per evitarlo avete due possibilità. O evitate a priori il tutto e quindi cercate di non riprendere direttamente la luce e non fare entrare nella vostra fotografia la fonte di luce, oppure se non potete evitarlo usate l'astuzia, cercate di posizionare poi il pallino in modo tale che in post-produzione con un'app riusciate a rimuoverlo senza problemi. Per la vostra gioia ragazzi, il video è già finito qui perché sì, non c'è tantissimo da dire, perché mi devo dilungare fino a 10-20 minuti per parlare sempre delle stesse cose, solamente per far felice l'algoritmo di YouTube, io non lo faccio. Quindi vi saluto e come sempre vi ricordo se avete dubbi o domande lasciate un commento qui sotto. Noi siamo arrivati alla puntata numero 17, ma in realtà è la diciottesima di come scattare foto migliori con iPhone perché la puntata 0 è stata quella pilota. Se non avete ancora visto il mio corso vi invito a farlo perché è in continuo aggiornamento ed evoluzione e come sempre qualche dubbio, qualche domanda lasciate un commento e vi risponderò. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!